ETV per la vostra rassegna stampa alle 6.45 fino alle 9.30 tutti i giorni e poi alle 13.30 a riproposizione delle 14.30. Cominciamo con una buona notizia perché i bambini sono la nostra speranza e il nostro futuro, allora fragili eppure guerrieri. I piccoli eroi prematuri del Salesi nella TIN, cioè nella terapia intensiva del Salesi, questi piccini che lottano per la vita. Vi racconterò tra poco con un video molto struggente. La buona notizia di ieri, ritrovato vivo, e ho visto molti commenti su questo di gioia e di soddisfazione, è stato ritrovato vivo. L'anziano scomparso da due giorni. Ieri avevamo ricevuto proprio qui in diretta un messaggio, un appello da parte della famiglia perché noi mostrassimo la foto per aiutare le ricerche. Così è stato. Ci scrivono da Iesi, ci scrivono da Macerata, da Porto San Giorgio, da Sant'Elpidia Mare, da Pesaro. Buongiorno Roberta, Solisca, Soledad, Emanuela. Grazie davvero per la vostra partecipazione e calore. A Pesaro Pioggerella. Grazie intanto. Questo mi porta alle previsioni del tempo per questo 18 di novembre, ragazzi. Incredibile. Novi sparse ma con isolate piogge. Inizialmente sembrava non dovesse cadere pioggia. Quest'oggi invece le previsioni sono cambiate e la pulce all'orecchio l'avete messa voi. Perché effettivamente ci state segnalando pioggerelle qua e là, su tutta la regione Marche. Questo è il quadro comunque generale con temperature belle pingui, anche 20 gradi in zona Ascoli per esempio. Oggi, domani cambia tutto con crollo delle temperature e piogge insistenti per sabato a 19. Da una settimana a questa parte arrivano costantemente messaggi che chiedono di andare ad analizzare e a cercare di capire questa grafica. Parliamo dell'elenco, dello sciame sismico, delle Marche tra il Pesarese e l'Anconetano dopo la scossa di mercoledì scorso. Ci sono stati terremoti questa notte? Questa è la domanda che sta arrivando come da giorni a questa parte. Allora, effettivamente nella notte ci sono state quattro piccole scosse, tutte sotto magnitudo 3. Una a mezzanotte, anzi due a mezzanotte e 51 con pochi secondi di distanza l'una dall'altra. Una all'una e 28, l'altra alle 2 e 25. Poi più nulla per il momento. Come prendere questi piccoli fenomeni? Con l'adagio secondo cui queste piccole scariche evitano poi che ci sia una grande scossa o comunque aiutano la terra a scaricare l'energia. Anche se poi sappiamo che non è detto e non è sicuro questo. I fatti dell'Aquila, il terremoto anche del 2016 dimostra che non sempre lo sciame sismico funga da deterrente. Buongiorno da Cupra Marittima e allora andiamo a tuffarci sui giornali dal nazionale al locale. Manovra, come cambia la busta paga? Si parla di busta paga, io direi di leggere bene insieme. Intervista al ministro Crosetto. Non possiamo più fare altro debito, ma dobbiamo assicurare gli aiuti a famiglie e imprese. Nella legge di bilancio 20 miliardi per il caro Bollette. Per il momento quindi no, non ci sarà nel decreto aiuti quater un aiuto concreto immediato alle famiglie, cioè per abbassare le bollette oggi, domani, dopo domani. Arriveranno questi aiuti con la manovra, quindi bisognerà aspettare ancora. Taglio del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi servono 4 miliardi. E chi ce li mette? Ce li mettiamo noi alla fine della fiera. Attenzione, c'è una notizia nazionale. Prima di tornare alle news locali, incubo serial killer. Siamo a Roma, tre prostitute uccise a coltellate in zona Prati. Una stava aspettando un cliente. L'ipotesi è che si sia trattato di un unico omicida. Ci sarebbe un serial killer a Roma che prenderebbe di mira le prostitute. Questo è quanto emerge negli ultimi secondi. Buongiorno, qui a Macerata sta tuonando, ci scrive Fabio. Grazie Fabio. Anche a Castella Raimondo pioggia. Attenzione che sto per arrivare a Castella Raimondo, precisamente al Lanciano Forum, per aiutare i ragazzi e le ragazze a scegliere, nella zona appunto di Castella Raimondo, Tolentino, Macerata, questo cuore delle Marche, la propria scuola superiore. Anche ieri abbiamo fatto un bellissimo viaggio attraverso la conoscenza. Un saluto, un abbraccio forte alla comunità di Castella Raimondo. Tetto al contante, questa merita un attimo attenzione. Poi torniamo ai giornali locali. Anzi, vado con una carrellata di news locali e poi vi spiegherò che sta succedendo sulla questione del tetto al contante a 5.000 euro. Sparisce per il momento dal decreto aiuti. Ma come? L'avevano detto che avrebbero fatto questo innalzamento, il governo Meloni per aiutare un pochettino la circolazione del denaro. Non è stato per il momento accettato questo provvedimento dal Quirinale, cioè dal capo dello Stato. Perché? Ve lo spiegherò meglio tra poco. Quindi per il momento il tetto al contante resta di 2.000 euro. Non facciamo errori in questi casi, perché poi gli errori, soprattutto quando si parla di quattrini, si pagano. Andiamo alle notizie, intanto. La vendetta dell'ex cameriere sfascia l'auto del titolare, fiamme al locale. Siamo a Sirolo, in trappola con la compagna. Concludi il lavoro al ristorante dopo la fine della stagione estiva e si la prende col titolare. In una notte, stando alla procura, mette in atto un doppio blitz. Prima colpisce con una mazza di ferro il parabrezza dell'auto dell'ex titolare. Poi tenta di dare fuoco al ristorante. Ma perché questa reazione è così violenta? I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. Ancora, terremoto ad Ancona, danni. Pensate per 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il pesarese, 7 milioni. Insomma, è una situazione molto delicata e difficile. Il sindaco Mancinelli dice adesso il governo ci deve aiutare. Ancora, per esempio, sui danni a Pesaro. Dicevo a voce, ma ve lo voglio far leggere i amici amici del pesarese. Danni del sisma nelle 37 scuole superiori. La provincia di Pesaro chiede 7 milioni di euro. La cronaca, ahimè, triste storia. Donna travolta e uccisa da un tir in retromarcia. La tragedia a Fano davanti ad una lavanderia. Ecco il luogo dell'incidente, l'incidente mortale nella zona industriale di Fano. Poco dopo le 15, ieri, una donna è stata travolta ed è rimasta schiacciata sotto le ruote di un tir in via Toniolo. Ma vogliamo anche parlarvi di cose belle, di speranza. Ci sono due temi in particolare che ci rubano l'occhio. Nella Tindel Salesi, dove gli eroi prematuri lottano per la vita, sono immagini belle queste che vorrei anche che altri condividessero sui social network. Mi fa piacere mostrare questi piccoli grandi guerrieri. Vediamo e sentiamo. Sono una mamma teen. Ho avuto mio figlio ricoverato qui 5 anni fa per due mesi e un po'. Adesso mio figlio sta bene. È nato di 30 settimane ed è stato dimesso dopo un paio di mesi. La teen ti cambia in maniera radicale. Vedi delle cose che non pensavi fossero possibili come rianimare un esserino di 850 grammi con tanti tubi, fili. Vedi un'esperienza medica e infermieristica di alto livello. I piccoli piedini si muovono dentro le cullette del reparto della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Salesi di Ancona. Fragili, eppure guerrieri. Degli eroi prematuri che hanno conosciuto il mondo solo da poche settimane, accuditi e sottoposti a trattamenti medici specifici. La nascita pretermine è quella che avviene prima della 37esima settimana di gestazione e consideriamo che nella nostra regione circa un 6% delle nascite avviene a questa età. Insomma, questi sono gli angeli del Salesi che meritano un ringraziamento. Io da quelle parti ci sono passato diverse volte diverse volte, con piacere. Si torna a casa sempre più pieni, più ricchi. Questa invece è Corridonia, sguardo verso il mare, grazie all'amico Saverio che ci regala un'altra perla della sua qualità fotografica. È questa la ricchezza e la bellezza del nostro, vostro Buongiorno ETV. Torniamo ai giornali. Avevo promesso di spiegare un attimo questa cosa del tetto al contante. Ma come la Meloni, 5.000 euro, sono già una promessa mancata? Allora, per il momento sì, ma tornerà la battaglia per il tetto in rialzo a 5.000 euro. Adesso è 2.000. Nell'ultima versione del provvedimento anti-rincari, quindi il decreto aiuti quater, salta l'aumento della soglia dei soldi contanti annunciata dal Premier Meloni. Secondo il Colle, non ci sono i requisiti d'urgenza previsti da un decreto legge. Io prima ci ho messo mezz'ora a spiegare, invece è una frase molto semplice. Un decreto legge deve avere urgenza e urgenza di alzare il tetto dei soldi a 5.000 non c'è. Il Governo allora lo inserirà in manovra, così come il Governo inserirà in manovra anche gli aiuti per le bollette, che per il momento, ho capito bene, sì, hai capito bene, per il momento nel decreto aiuti quater non ci sono sconti sulle bollette per le famiglie. Andiamo ai giornali locali. Sì, questo è incredibile. Siamo a Macerata. Al funerale scoppia la rissa. Un uomo finisce addirittura in ospedale. Prima la lite tra i familiari per un orologio, poi spunta un video ed esplode il parapiglia. Lite tra i familiari del defunto. Al funerale scatta il parapiglia come in un brutto film. Un quarantenne finisce in ospedale. È accaduto ieri di fronte alla chiesa di Santa Croce a Macerata, oggetto del contendere a scatenare tutto un orologio. Da Macerata a Fermo, ancora con i giornali, arriviamo dappertutto. È come sempre. Acqua. Saranno ridotti gli aumenti. Ha fatto molto arrabbiare i sindaci, ma anche i cittadini della zona di Ascoli e Fermo, l'annuncio della CIP di aumentare le bollette per l'acqua. La bolletta più salata, sì, del 7,5%, acqua salata verrebbe da dire, nel 2023, ma con guaglio congelato. I sindaci però si spaccano. Delibera all'Assemblea del Lato, approvata sul filo di lana, con poco più della metà delle quote. Intanto, l'ospedale dei Sibillini prende forma. Eccolo qua. In arrivo altri 31 milioni di euro. Siamo ad Amandola. E qualche giorno fa, vi avevo proprio fatto il punto sugli ospedali, San Benedetto, Pesaro, l'ospedale dei Sibillini, l'Inrca, presso l'Aspio. Questo è il focus proprio sull'ospedale dei Sibillini, che a giudicare dal cantiere mi pare in avanzato stato di elaborazione. Non è ancora completato, ma ci saremo, ci arriveremo. Non vediamo l'ora di seguire questa inaugurazione. I giornali dal Lanconetano, e non solo sisma, 40 milioni di danni. La sindaca Mancinelli chiede aiuti al governo. Forse dovremo demolire e rifare tre scuole. Allora, l'ipotesi demolizione, che devo dire, nei giorni scorsi era stata paventata da alcuni giornali, e non c'era stata ancora data notizia dal comune. Adesso la parola demolizione esce dal comune di Ancona, ufficialmente. Quindi siamo di fronte ad una ipotesi oggettivamente concreta. E poi lo shock Marinelli in consiglio regionale, no allo stato d'emergenza, perché scoraggia il turismo. Insomma, in un momento così delicato, ci sono famiglie e aziende che aspettano aiuti. A proposito di terremoto, e a proposito di Ancona, il trasferimento sulle scuole, facciamo il punto. Stamattina le cose sono andate benissimo. I ragazzi sono saliti sugli autobus che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione, in collaborazione con Conero Bus. Sono arrivati in piazza Kennedy, c'era il personale di mobilità e parcheggi che li ha accompagnati nel tragitto a piedi. Sono arrivati in perfetto orario davanti alla nuova sede, la sede temporanea, che li ospiterà temporaneamente. E' andato tutto benissimo. Sono sistemati nelle loro aule, ora stanno facendo un giro per familiarizzare con il nuovo ambiente. Sono tornati sui banchi nelle nuove sedi. Questa mattina i quasi 500 allunni delle tre scuole chiuse ad Ancona in seguito del sisma del 9 novembre. Le 12 classi della scuola media podest, i 253 allunni, sono le Tommaseo in Via Fanti. Le 7 classi della scuola secondaria di primo grado Pinocchio di Via della Madonnetta, per un totale di 164 allunni, sono state invece trasferite nei plessi delle scuole Falcone e Via della Montagnola. Le tre sezioni della scuola d'infanzia 25 aprile, 78 in totale, frequentano da oggi la vicina scuola d'infanzia a Verne. Questo il trasferimento, questo il processo che in tre giorni di fatto ha creato nuove aule, nuove scuole, trasferimenti che sono stati a detta dell'assessore del comune di Ancona a Foresi, un piccolo miracolo effettivamente. Tutto è ripartito, ci sono ancora, va detto, tre scuole che aspettano la chiusura definitiva dei lavori di sicurezza e i ragazzi e le ragazze torneranno però proprio in quelle scuole. Invece gli alunni citati dal collega Andrea Fiano non ritorneranno nelle proprie scuole perché probabilmente dovranno essere addirittura demolite. Questo per raccontare la forza del terremoto. Buongiorno, sono una zia Tin, le immagini dei bimbi nelle cullette mi riportano indietro nel tempo. Quando nacquero prematuri i miei due nipoti gemelli, che meraviglia, che gioia doppia. Anche la mi mamma è gemella della mi zia e c'ho altri due zii gemelli, quindi sul tema gemelli potrei raccontare tanto. Saluto Mirko Marco, la coppia dei tennisti più simpatici del mondo e poi Maria e Loreta. Già 23 anni fa l'equip straordinaria del Salesi diete prova di altissima professionalità. Ci scrive Cinzia da Pesaro. Grazie cara Cinzia da Pesaro e complimenti per questo ricordo che hai voluto condividere. A proposito di Pesaro, per ringraziare Cinzia, ma per continuare questo nostro viaggio, superiori danni per 7 milioni di euro. Documentazione della provincia di Pesaro sulle scuole. Evacuato un altro palazzo, nove famiglie senza casa. Questo è il quadro per il terremoto di una settimana fa. Tragedia Bellocchi, il mezzo faceva manovra, la cronaca muore schiacciata da un tir. Una povera signora che ha perso così la vita. La storia di Anastasia, la tristissima storia di Anastasia, l'omicidio. In arrivo madre e sorella saranno accolte a Fano da una rete di volontari. La loro presenza sbloccherà l'iter per poter procedere all'autopsia sul corpo della giovane mamma che purtroppo non c'è più. È previsto oggi l'arrivo a Fano dalla città ucraina di Usgrod. Tra l'altro quindi nella guerra, nel pieno della guerra anche dover affrontare questo dramma nel dramma. La mamma e la sorella di Anastasia sono attese nelle prossime ore qui nelle Marche. Torno un attimo a Nazionale a proposito di omicidi uccise a coltellate. Tre prostitute trovate morte nel quartiere Bene di Roma. Cazza al serial killer. Le aggressioni avvenute in due palazzi della Rione Prati a pochi metri di distanza tra loro. Le vittime sono due cinesi e una colombiana tutte colpite al petto. Ecco perché in base al modus operandi potrebbe esserci una stessa mano dietro gli omicidi. Volevo anche darvi conto a livello economico di qualche dettaglio sul lacunio fiscale sulla busta paga delle italiane e degli italiani. Non si parla del decreto d'urgenza e quindi non sarà una roba immediata però il governo sta lavorando a 135 euro in più in busta paga. Taglio del 2% entro la fine di quest'anno riguarderà chi ha la busta paga e quindi dico subito già i fortunati e le fortunate che hanno un lavoro. Allora le proposte del governo più soldi in tasca la detassazione andrà ad incidere per due terzi e il lavoratore riceverà due terzi di quest'aiuto un terzo invece andrà all'azienda. È confermato il taglio di due punti come previsto tra l'altro dal governo Draghi si lavora di abbassare il cuneo di altri 5. L'effetto sui salari per i redditi sotto i 35.000 euro il guadagno sarà di almeno 1200 euro in più l'anno in busta paga senza dover fare niente senza dover chiedere niente a nessuno semplicemente perché lo Stato ci sfiderà meno dalla busta paga perché chi ha la busta paga grande fortuna ripeto senza accorgersi paga le tasse che è la cosa più bella e curiosa che c'è 135 euro in più in busta paga se poi il governo dovesse riuscire a fare questa proposta e il Parlamento dovesse approvare tutto questo dovrebbe fare riferimento alla legge di stabilità quindi dall'anno prossimo potrebbe esserci questo aumento torno un attimo ai vostri messaggi poi ancora scorpacciatona di titoli di giornale buongiorno Maurizio e io e il mio Rocco ti seguiamo tutte le mattine vediamo un po' se Rocco è come credo un amico a quattro zampe io poco fa citavo sì eccolo là che meraviglia tra l'altro mi pare che abbiate un'ottima predilezione per le spiagge marchigiane se non erro un saluto a te e un bau bau a Rocco torniamo alle notizie legate invece alle buone notizie l'anziano scomparso ieri l'appello condiviso anche dalla famiglia qui su ETV l'anziano è stato ritrovato fortunatamente sta bene ed è vivo questa è la cosa più importante proprio in assoluto si commuove Marzia e l'emozione che prende il sopravvento dopo aver potuto riabbracciare zio Silvano scomparso da due giorni l'anziano di 80 anni è stato ritrovato in via della ferrovia ad Ancona la sua auto una Peugeot 206 nera è stata notata questa mattina da un cacciatore che ha dato subito l'allarme è stato ritrovato fortunatamente da un cacciatore che ha visto quindi quest'auto impantanata sta bene adesso l'hanno portata all'ospedale Torrette farà tutti gli accertamenti l'anziano era in discrete condizioni di salute disorientato in leggero stato confusionale e disidratato visto che ha trascorso 48 ore fuori casa e verosimilmente all'interno dell'auto senza medicine acqua e cibo in via della ferrovia sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre la vettura dal campo la polizia l'automedica del 118 la croce gialla di Agugliano e poi i parenti compreso il fratello Pietro ci ho parlato un attimo perché sono salita su in ambulanza ed era mi ha riconosciuto e ho detto chi sono? ma sei marzia quindi era proprio lucido mi ha riconosciuto e tutto però era convinto che ieri mattina era a casa quindi ha delle sue convinzioni che bisogna tutto vedere ecco l'importante è che è vivo questo è il messaggio la gioia la contentezza della nipote buon inizio fine settimana carina questa Alessia buon inizio fine settimana sì perché è venerdì a Civitanova certi tuoni ci scrive Carla questo è di aiuto anche a chi si sta muovendo per la regione Marchia Civitanova sta tuonando buongiorno Michela buongiorno Sandiran buongiorno ancora all'amico Rocco il nostro cucciolo a quattro zampe che ci ha salutato torniamo ai giornali proprio per la costa ci diceva poco fa l'amica da Civitanova sta tuonando oltre a proposito di costa 13 milioni di euro per la difesa della costa scogliere interventi contro il rischio idrogeologico a Fano Mondolfo e Porto Sant'Elpidio quindi ce n'è un po' per tutti i gusti 13,7 milioni 3 milioni a Porto Sant'Elpidio per la realizzazione di scogliere emerse 4 milioni e 4 a Fano per opere di difesa del litorale dal torrente Arzilla al Fosso Segiore per lotti funzionali 3 milioni anche per Mondolfo per l'efficientamento delle scogliere esistenti il giornale questa volta nazionale Corriere della sera la camera resta ricca scende il numero dei deputati ma la spesa rimane la stessa e calla come al solito fatta la legge trovato l'inganno siamo in Italia signore e signori questa mi ha già fatto arrabbiare ve la racconto rapidamente anche perché se no ho un travaso di bile che non vi dico allora sapete come nell'ultima elezione del 25 di settembre ci hanno chiamato al voto e non dovevamo più eleggere non avremmo più dovuto eleggere mille tra deputati e senatori 630 deputati 315 senatori no no per risparmiare per snellire per alleggerire con i governi precedenti si era deciso di portare i deputati da 630 a 400 quindi 230 in meno si risparmia certo i senatori da 315 a 200 anche lì si risparmia un sacco solo che c'è un solo i gruppi parlamentari ricevono denaro per ogni parlamentare quindi si riceveva circa 40 mila euro per il fatto che un gruppo abbia un parlamentare 40 mila euro questo denaro è stato aumentato per esempio a 67 mila euro ma come forse per compensare il fatto che ci saranno meno parlamentari cioè come al solito invece hanno tolto da una parte e se ne sono ridati da quell'altra meglio che non aggiungo altro per non inimicarmi troppo già lo faccio i nostri amici politici che quando lavorano bene vanno premiati e quando invece ci sono ste furbate vanno criticati bilancio manovra da 30 miliardi slitta confermiamo a gennaio il tetto a 5 mila euro slitta a gennaio e slitta a gennaio anche l'aiuto per le bollette all'energia arriveranno 21 miliardi così come dovrebbe arrivare da gennaio se la manovra verrà approvata ripeto questo aiuto importante taglio del cuneo fiscale cioè il costo del lavoratore per il datore di lavoro quindi fino a 135 euro in più in busta paga sinceramente speriamo speriamo che succeda sfogliando sfogliando andiamo ai titoli di pagine interne per trovare qualcosa di interessante e curioso per voi e con voi stand aperti fino a sera per la fiera di Santa Lucia finanziato il centro commerciale naturale e al porto si accendono le luci una bella notizia da San Benedetto dove torna la fiera di Santa Lucia con oltre 200 stand mentre per la prima volta il Natale si accenderà anche nella zona porto con luminarie che saranno allestite davanti alla banchina Malfizia di iniziativa in iniziativa abbiamo raccontato attraverso anche i nostri giornali e le nostre trasmissioni l'appuntamento che vi aspetta nel pomeriggio a partire dal pomeriggio di oggi cioè Ciocco Marche la festa del cioccolato ne abbiamo parlato ieri sera a punti di vista del nostro talk show ecco la mappa di Piazza Cavour che da questo pomeriggio si animerà con laboratori per bambini Ciocco Experience ecco Giulia Mazzarini e Marco Pierpauri ieri sera nei nostri studi per raccontarci quello che è stato definito dalla nostra emittente un po' il capolavoro di Confartigianato 21esima edizione ci saranno degustazioni ci sarà possibilità di ascoltare di imparare anche l'educazione alimentare da parte dei maestri cioccolatieri davvero una bella occasione anche per godersi il centro chiaramente dipendentemente dalle previsioni del tempo ma oggi non dovrebbe essere una giornata di pioggia e comunque un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano lì già per caso quindi non è detto che siano sempre notizie negative quando piove schianto frontale sulla Pergolese attenzione immagini shock tre feriti gravi un novantenne estratto dalle lamiere eccola qua c'era arrivata anche una richiesta di approfondimento su questa storia tre il bilancio di tre feriti seri un violento frontale tra due auto è avvenuto ieri lungo la Pergolese ha provocato tre feriti tutti trasportati all'ospedale regionale Torrette di Ancona si tratta tra l'altro dell'ennesimo incidente questo diceva il messaggio sulla 424 a proposito di incidenti chiediamo giustizia per Milena la famiglia della quattordicenne morta denunciano i conducenti delle due auto il conducente dell'auto che aveva dato uno strap un passaggio alla povera Milena e anche il conducente dell'altra vettura con la quale il mezzo su cui si trovava Milena è andato a schiantarsi ancora notizie locali con il nostro sito e qui voglio sottolineare quello che abbiamo raccontato attraverso i nostri telegiornali nella Tindel Salesi dove gli eroi prematuri lottano per la vita immagini che hanno commosso tante e tanti qui a Buongiorne TV ritrovato vivo l'anziano scomparso da due giorni e questa sì che è una bella notizia la Banda dello Spray la tragedia della Lanterna Azzurra sei vittime giovanissimi più una mamma di quattro ragazzi di quattro figli non ce ne dimentichiamo mai ha colto il rito abbreviato per l'ottavo componente del gruppo della Banda dello Spray che per rapinare spruzzando lo spray aveva secondo quanto è scritto nelle carte dell'accusa hanno scatenato la calca la fuga e poi lo schiacciamento e sappiamo tutto quello che sappiamo tutti quello che purtroppo poi è successo mi devo fermare grazie buongiorno per tutto il giorno ma se avete piacere state con noi grazie anche ai tantissimi messaggi che sono arrivati e stanno arrivando